Dei dreamer leali del sogno sta giungendo verso il termine, il gran finale è quasi vicino, ma noi adesso vi svegliamo le anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021, vediamo che cosa accadrà. L'appuntamento ragazzi vi ricordo è sempre da lunedì a venerdì, a partire dalle 6.45 circa, dopo ovviamente andrà in onda pomeriggio 5. Nelle puntate che andremo a vedere dal lunedì prossimo, Sanem, grazie al suo potente profumo, proverà a fare riconquistare la memoria a Jeanne, dà un passo per provare a sentire la scintilla, ma purtroppo vengono interrotti da Leila e Edembre. Più tardi però Jeanne confesserà a suo papà Agiz di non provare nulla per Sanem, ma mentre lo farà non si accorge che lei lo sta ascoltando. Nel frattempo a causa dell'assenza di Jeanne e Sanem il lavoro con Asim rischia di saltare, ma una brillante trovata di Leila risolve tutta la situazione, anche se per un pochino. Infatti però adesso dovrà trovare un regista di nome Arthur Capello. Muso e JJ avranno una forte lite, tanto che quest'ultimo verrà sbattuto fuori di casa, ma troverà riparo da Nihat e McVeigh. Nel frattempo in agenzia Jeanne annuncerà a tutti che Leila è diventata responsabile commerciale, ma subito dopo deve uscire con Sanem per una importante riunione presso l'ufficio del signor Nazim. Ovviamente per raggiungere questo signor Nazim, Jeanne e Sanem avranno come al solito opinioni diverse per come evitare il traffico. Ovviamente vince Sanem che arriva prima, ma purtroppo avrà zero risultati con questo signor Nazim, perché nonostante i suoi tentativi di dissuaderlo a lavorare con il regista Arthur Capello, lui non accetta e quindi Sanem non riesce nel suo intento, persino anche dopo avergli dato una grande somma di denaro, proposto una grande somma di denaro. Jeanne e Sanem così ritornano a casa, molto delusi per non essere riusciti a convincerlo. Tornano in agenzia e insieme a tutti si mettono alla ricerca di un attore bravo, ma poco conosciuto, che possa impressionare Arthur Capello. Sanem riuscirà a trovare un ragazzo, un certo Ayati Tokmak, un attore di teatro che ha tutte le caratteristiche fisiche e anche caratteriali che cerca proprio Leila. Più tardi però Sanem farà la conoscenza di una certa Ayaka, che è la figlia del signor Asimir, è amante della natura, dei viaggi e dello sport, tutto quello che ama il suo Jeanne. Lei sarà la prossima rivale in amore per quanto riguarda Sanem. Questo e tanto altro nelle prossime puntate di The Dreamer. Voi continuate a seguirmi, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per non perdervi questo ma nessun altro prossimo video.